Grande successo al Centro Universo di Silvi per la mostra dei presepi, ma c'è stato spazio anche per tanta solidarietà, è così? Sì, è così, siamo stati ospiti dell'Associazione Arte e Cultura, noi dell'Associazione Isile, e abbiamo donato una vigilia di Natale e un Natale a due famiglie bisognose del territorio di Silvi, che ci sono state segnalate per l'appunto dalla direzione del Centro Commerciale. Abbiamo regalato questi pacchi spesa, belli abbondanti, per far sì che anche loro potevano ricevere un Natale dignitoso, perché noi di Isile riteniamo che tutti debbano avere un Natale dignitoso. Noi ci battiamo per ridare dignità alle donne, ma anche alle famiglie, perché in questo periodo di disagio è giusto che sia così. Nella giornata della Befana ci saranno altre iniziative? Ma certo, nella giornata della Befana noi di Isile ogni anno ci ripetiamo con le Befane belle, perché abbiamo visto sempre i bimbi piangere per quanto riguarda la Befana, quindi abbiamo scelto le Befane carine e doneremo circa 200 calze, e sono calze un po' come le faceva la nostra nonna, con dentro troveranno il soldino, il mandarino, le noci, ma anche tanti dolci e balocchi, per tutti i bambini di un quartiere un po' così di Pescara, e quindi andremo lì e porteremo giochi, pane e Nutella, latte, colazione per tutti quanti.